Vado? Vai, vai, dai, muoviti, dai, muovi! Sì ragazzi! Esatto! Supertombola della fortuna, dal 29 novembre al 12 gennaio, tutti i giorni allo Sport Park, i festivi anche dal pomeriggio! Sei dimenticato, il trentennale! Il trentennale! Sì, il 29 novembre si festeggia il trentennale dello Sport Park con grandissimi ospiti! Uno su tutti, Maurizio Merluzzo, vi aspettiamo!